Signorina, questo è il top della gamma, il clima bizzona, il cambio automatico e come puoi vedere, la radio è touchscreen, con i comandi al volante. Come ti chiami? Michele. Michele, perfetto. Allora partiamo con il primo gioco karaoke, che si chiama Ho perso le parole. Praticamente dovresti indovinare le parole mancanti di questo pezzo. Come te la cavi con la memoria? Perfetto. Allora pronto, carichiamoci, concentriamoci, 3, 2, 1, vai Michele. Singhin in the car, da lunedì 5 settembre alle 20.30, in prima visione su TV8. Nella testa c'è un grosso bordello che fa, bada boom, bada boom, ciao ciao. 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 Grazie a tutti